Ciao da Monica delle Maestre a Cubetti, continuiamo la costruzione di quello che ci serve per combattere il caldo allora posiziono un blocco di quarzo di modo tale che adesso riesco a mettere un gradino rovesciato vedete, poi qua attorno vado avanti a mettere un gradino ok, ci giro attorno credo che stiate indovinando cosa sto costruendo immagino allora preparo il bordo con molta calma, che siamo in vacanza sta tramontando il sole ma noi siamo staccano visti andiamo avanti a lavorare, tolgo questo blocco che non mi serve più e qua giù metto due lastre oh che bello il tramonto ok, abbiamo finito, guardate un po' stiamo per costruire una bellissima vasca da bagno all'aperto grazie a tutti grazie a tutti